Anticipazioni una vita, puntate spagnole. Ramon accetta di assassinare David. Una vita si avvicina alla puntata finale ma, nonostante questo, le prossime puntate si prospettano ricche di colpi di scena. In particolar modo, Ramon si troverà ad accettare un incarico dato da Aurelio, il quale ovviamente saprà bene come ricattarlo per portarlo ad acconsentire. L'inaspettato gesto di Ramon finirà per coinvolgere anche Fidel, diventato ormai il suo più caro amico. Anticipazioni una vita, puntate spagnole. Aurelio chiede a Ramon di assassinare David. La nuova sorprendente storia che riguarda Ramon, inizia quando quest'ultimo comincia a pianificare qualcosa, insieme all'amico Fidel. Infatti, i due decidono di dare vita ad un'organizzazione parallela a quella legale, per farla pagare agli anarchici. Lolita si accorge di alcuni dettagli insoliti, ad esempio il denaro che Palacios sta nascondendo o il fatto che Bisbigli di frequente insieme a Fidel. La Casado, però, non immagina quello che sta per succedere. Per vendicarsi degli attentati che hanno fatto perdere la vita ai loro parenti, Ramon e Fidel uccidono prima l'anarchico Leonardo e poi Fausto, vero organizzatore degli attacchi e da sempre complice di Soledad. Inizialmente fiero di quanto fatto, Ramon comincia ad avere dei sensi di colpa e fa anche frequentemente degli incubi che riguardano l'omicidio. In questa vicenda già abbastanza complicata si inserisce anche Aurelio, il quale, insospettito dai misteriosi omicidi ai danni di questi anarchici, comincia ad indagare su Palacios e Fidel. Dopo aver ottenuto le prove del loro effettivo coinvolgimento in quanto accaduto, il perfido che Zada va a casa di Ramon per avanzargli una proposta. Infatti, gli domanda di assassinare il suo nemico di David, dato che lui sarebbe insospettabile e riuscirebbe anche a guadagnare la fiducia dell'uomo. Quando il padre di Antonito rifiuta, Aurelio fa sapere di essere in possesso delle prove della sua responsabilità negli omicidi degli anarchici, e di essere pronto a portare il materiale alla polizia in caso di rifiuto. A quel punto, Ramon capisce di essere ricattato e di dover accettare. Anticipazioni una vita, puntate spagnole. Ramon e Fidel pianificano l'omicidio di David. Ramon, nonostante tutto, prova a resistere contro le richieste di Aurelio e, ormai esasperato da quanto sta succedendo, ne parla con Fidel. La risposta del poliziotto è sorprendente. Infatti, Fidel dice a Palacios che devono assolutamente accettare la proposta di Aurelio, perché non possono permettersi che la loro organizzazione venga alla luce e sia punita dalla giustizia. Al contempo, Fidel cerca di convincere Ramon sottolineando che una persona come Quesada potrebbe anche essere capace di fare del male a Lolita, o al piccolo monce pur di ottenere quello che vuole. Ramon ne parla di nuovo con Aurelio, il quale, nella conversazione, nomina di sfuggita Lolita e suo figlio. Per questo motivo, Ramon intuisce che quanto detto da Fidel sia vero. A quel punto Palacios si rende conto di essere stato messo con le spalle al muro da Quesada e che Fidel aveva ragione. Per questo motivo, accetta l'incarico. I due amici si mettono quindi subito all'opera, e contattato i loro uomini per cercare di portare a termine quanto prima, l'omicidio di David. Ramon però è profondamente turbato, in quanto Exposito non è un assassino come le altre persone a cui hanno tolto la vita in precedenza, ma una persona buona. Proprio negli stessi momenti, Rodrigo si rende conto che Valeria è davvero innamorata di David e che sarà felice soltanto al suo fianco. Per questo motivo, accetta di lasciare libera la moglie e di sparire, perché lei possa essere serena con David. Queste notizie colpiscono ancora di più Ramon e Fidel, che si sentono molto in colpa per quanto sta per accadere. Voi che cosa ne pensate? Credete che alla fine i due riusciranno a portare a termine il compito, dato da Aurelio oppur no? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, ed iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!